Buonasera youtuber, sono Sara Cialanewolf e oggi in questo piccolo video volevo mostrarvi Taiko che praticamente partecipando alla prova di obbedienza riesce a fare 100 punti, è la prova di obbedienza alla coppa Nintendox Vedete che con il punto con 76 punti Pepper è il primo, bla 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 Vedete c'è il cerchio dorato, che è la prova di obbedienza alla Nintendox e c'è il cerchio d'oro Vediamo se riusciamo a fare 100 punti Please Perfetto Ci proviamo Terra Perfetto, ci è rimasta per 9 secondi Gira Breakdance Starnuto Perfetto Perfetto Alzati Please Esulta Hope Verticale Breakdance Breakdance Ulula Gira Puff2 Puff2 Puff 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 Vabbè, comunque più di 100 punti non va Ecco, come potete ben vedere 100 pt Che bella cosa 100 punti 100 Nel ultimo ha tenuto 40 punti Sì, cavolo, ma ne ha fatti di più, però più di 100 non va Quindi Siccome molte persone dicono Cavolo, è impossibile vincere la prova di obbedienza a Nintendox E così, è possibilissimo Infatti, come vedete, ha fatto 100 punti Tutto è pronto Blah, blah, blah Diego, eh Primo posto, secondo Primo posto con 100 punti Yes 500 euro in palio Blah, blah, blah Eh, sarà tipo la decima volta che mi vince con 100 punti, ovviamente Non ho fatto questa gara perché Così a caso Cioè, lo sapevo che faceva 100 punti Perché l'ha fatto altre volte Lei ha vinto A Nintendox da Da tanto tempo Infatti, come vedete Ha 5383 punti addestratore Bene, questo video si conclude qui Spero di avervi fatto Insomma Di avervi aiutato Nel caso vi servisse Come potete vedere Sì, può vincere la Nintendox La propria obbedienza Ci vuole solo un po' di pazienza Infatti Taiko ha 5.000 punti Significa Cioè, è un mese e mezzo che ho Taiko Quasi due mesi Il 10 di giugno sarà due mesi Per cui Più che altro per vincere Bisogna che il vostro cane Faccia Stia in posizione per 9 secondi O se no Dovete Ripetergli i comandi Molto velocemente Nell'esecuzione libera Altrimenti non vincere che la gara Bene Prima di momento è tutto Spero che questo video Vi sia stato utile E che vi sia anche piaciuto Commentate e scrivetevi Per chi vuole Come iscrivervi Se lo sapete E Prima di momento è tutto L'ho già detto tre volte Alzheimer Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti